Presidente Marsiglio, un cambio di passo importante anche nell'approccio riguardo alla programmazione dei fondi comunitari e italiani nazionali 2014-2020, insomma sfatiamo un po' il tabù che le regioni non riescono a spendere. Un cambio di passo certificato dalle autorità di sorveglianza e di vigilanza della Commissione europea che riguarda sia i fondi europei strutturali sia quelli dell'agricoltura e della pesca, dove anche organi di controllo come la Corte dei Conti ci certificano il modello Abruzzo come punto di riferimento di buona pratica per tutta l'Italia. Nei fondi europei abbiamo superato il 90% nel fondo sociale e l'80% nel fondo di sviluppo regionale e tutti i fondi che non sono stati già spesi entro il 31 dicembre scorso erano già impegnati e si stanno spendendo nei primi mesi dell'anno, quindi in questi mesi siamo ormai addirittura d'arrivo per chiudere i programmi 14-20 nei tempi previsti e spendendo tutti i fondi. Una capacità della regione che ha cambiato passo decisamente perché quando 4 anni fa è iniziato questo governo la regione Abruzzo era tra le ultime in Italia nei rispettivi fondi, si rischiava il disimpegno di decine e decine e decine di milioni di fondi europei compresi a partire da quelli dell'agricoltura. Abbiamo evitato in questi anni sia i disimpegni anno per anno raggiungendo gli obiettivi anno per anno ma soprattutto accelerando e recuperando il divario che si era accumulato con le altre regioni. Oggi l'Abruzzo non è seconda a nessuno e in alcuni casi addirittura viene additata come modello, era il compito che ci eravamo assunti, spendere bene i fondi, far ripartire l'economia abruzzese e far anche essere orgogliosi di essere abruzzesi nei confronti con il resto d'Italia. Un segnale importante arriva dalla regione anche per quanto riguarda la nuova programmazione. La nuova programmazione è pronta ed è stata approvata, quella dei fondi strutturali, sociale e sviluppo regionale assommano ad oltre un miliardo compreso il cofinanziamento che oggi approveremo in giunta la parte che riguarda la regione per far partire questi avvisi, questi bandi. Ce ne sono oltre 350 milioni pronti a partire con il nuovo programma dell'agricoltura per non parlare di tutto il resto, PNRR, ZES, fondi speciali, fondi di bilancio del governo e noi sono un pacchetto di mischia importante per far decollare l'economia abruzzese, per affrontare la crisi, per permettere a famiglie e imprese di sostenere anche questo momento di grande difficoltà economica e noi siamo impegnatissimi a farlo, a farlo bene e a farlo il più velocemente possibile. Una sinergia forte con il governo nazionale, a testimonianza degli interventi anche del ministro Lollor Brigida e del ministro Fitto? C'è grande attenzione da parte del governo nazionale verso l'Abruzzo, non solo e non tanto perché Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, è eletta in Abruzzo. C'è un rapporto molto fecondo, oltre che di amicizia personale e politica di lunga frequentazione, con quasi tutto, buona parte del governo nazionale che però sta trovando in Abruzzo, come hanno detto oggi anche i ministri intervenuti, dei buoni modelli, delle buone pratiche anche da replicare, oltre che da sostenere, ma anche da presentare in giro per l'Italia per far vedere come si fanno bene le cose e questo è un altro elemento che noi esibiamo con un pizzico di legittimo orgoglio.